Un pomeriggio all'insegna dell'arte e del talento, venerdì scorsa a Scoglitti, si è svolta la premiazione della prima edizione del concorso Arte e Bastioni con la giuria che ha espresso il proprio insindagabile giudizio premiando le tre migliori realizzazioni. Un concorso come il noto che ha permesso a tanti artisti, giovani e meno giovani, di poter esprimere il proprio potenziale in uno scenario speciale come il lungomare della frazione. È stata una bellissima manifestazione, i partecipanti erano tutti qua, c'era la giuria che ha decretato come opera vincitore di questo primo concorso Arte e Bastioni il Bastione numero 17, che è stato dipinto da Daniele Biazzo. Poi sono state premiate altre due opere, in ogni caso chiunque abbia vinto devo dire che la giuria ha espresso parole di grande considerazione nei confronti della stragrande maggioranza, direi la quasi totalità di tutti i partecipanti che hanno espresso un livello di fantasia e di esecuzione veramente notevoli. Da questo momento in poi invece siamo alle prese con il secondo evento programmato, alle mie spalle vedete questo blocco di pietra di Comiso che sarà oggetto di una scultura in plein air, cioè nel senso che verrà effettuata in diretta durante tutto il periodo in cui sarà necessario, cioè da oggi fino a tutto agosto, dal nostro concittadino allo scultore Ezio Cicciarella. Di questa manifestazione sono personalmente particolarmente orgoglioso e contento perché è un progetto che abbiamo inventato con Ezio e con Filippo Fauzia che desidero ringraziare per questo progetto e alla fine questa opera verrà donata dallo stesso artista alla nostra città e verrà collocata in un luogo pubblico così tutti potranno fruirne.